Il clima rovente a Viterbo, 500.000 persone nel centro storico della città, ma ecco Cristicchi che serve Vauro e si smarca dalla pericolosa azione di Cotroneo su Mauro Corona, a fondo di Battista tallonato da Giordano e fantasiosa azione di Guccini che passa a Pelù e prende in contropiede Farinetti, Grossman e Augas riguadagnano il Duomo, ma attenzione invasione di piazza, sono gli artisti di strada, i fumettisti del Caffeina Comics Lab. Libri, teatro, fumetti, musica, arte, sapori, dieci giorni per scatenare la nostra passione. Caffeina Festival a Viterbo dal 27 giugno al 6 luglio.